Il quarto posto ottenuto da Benedetta Pilato non è stato accolto positivamente, né dalla giornalista di Rai News Elisabetta Caporale, che ha commentato con un, ma sei veramente felice? Tutti ci aspettavamo un podio, né da Elisa Di Francisca, opinionista in studio per le Olimpiadi di Parigi. Benedetta Pilato si è classificata quarta e ha suscitato la reazione di Elisabetta Caporale, ma sei felice? Ci aspettavamo il podio, la sua reazione piccata. L'ex schermitrice, che potremmo vedere nel cast della quarta edizione della Talpa, ha commentato l'intervista di Caporale a Pilato dicendo, non ho capito nulla, non so cosa pensare. Lei è rimasta delusa, è impossibile essere contenta. Quest'intervista è assurda, surreale. Non voleva salire sul podio, allora perché c'è andata? Bisogna fare un'altra intervista per capire, servono i sottotitoli. Io non l'ho capita, il video di Di Francisca su Benedetta Pilato è diventato virale su Twitter, dove l'ex schermitrice è stata duramente criticata. Se questo è il comportamento di Di Francisca, sarà sicuramente interessante vederla alla Talpa, ma in questo contesto è stato fuori luogo. Benedetta Pilato non ha mai detto di non voler salire sul podio, semplicemente si è detta sorpresa di non esserci salita perché non se l'aspettava. L'articolo su Elisa Di Francisca e Benedetta Pilato è stato pubblicato su bc.it.